I carabinieri di Tirano sono al lavoro per cercare di far luce su un grave atto vandalico avvenuto nella notte tra sabato e domenica nella città dell'Adda. I gnoti, punteruolo alla mano, approfittando dell'oscurità, hanno bucato gli pneumatici di cinque macchine parcheggiate in vie diverse della località Dosso. Gli autori dei danneggiamenti avrebbero preso di mira in prevalenza le auto degli ospiti di Bed & Breakfast della zona, ma anche di alcuni residenti. Resta da capire quale possa essere il movente dell'inqualificabile gesto, se un mero gratuito episodio di vandalismo oppure la reazione di qualcuno alla presenza di auto parcheggiate in modo disordinato lungo le vie di queste zone della città. Le ipotesi intorno a questa vicenda, che ha già scatenato una ridda di commenti sui social, sono in attesa delle dovute verifiche investigative da parte dei carabinieri di Tirano, a cui domenica mattina i proprietari dei veicoli, una volta fatta la mara scoperta, hanno presentato denuncia. I più fortunati hanno trovato una sola gomma a terra, ma c'è anche chi ha dovuto fare i conti con tutte e quattro le gomme bucate.